Vere e proprie stanze del buco in uno dei tanti appartamenti occupati abusivamente alle case a terra di via Rigopiano a Pescara. Non sono stati sufficienti gli sgomberi dello scorso attunno. La situazione in pochi mesi è tornata come prima, se non peggio, e chi si aspettava un polso più fermo con la scesa del governo regionale del centro-destra, in particolar modo della Lega, è rimasto deluso. A denunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che stamane è tornato tra i residenti di via Passo della Portella a piccola traversa di via Rigopiano per denunciare il totale immobilismo della giunta Marsiglio, nonostante i tanti proclami in campagna elettorale. Noi tre mesi fa, appena insediata l'amministrazione centro-destra, abbiamo chiesto lo sfratto immediato degli abusivi. Non hanno fatto nulla, sono passati tre mesi, non c'è stato nemmeno un incontro, un tavolo promosso dalla regione presso la prefettura di Pescara per procedere con lo sfratto degli abusivi. Ma non solo, noi chiediamo un censimento di tutte le abitazioni per verificare i requisiti. Qui ci sono persone che non hanno requisiti e stanno all'interno della Casa Popolare. Quelle persone devono essere fatte di oggetti di decadenza, provvedimenti di decadenza, per ristabilire la legalità e per consentire ai poveri cittadini onesti, che sono in graduatoria e ne sono oltre 700 a Pescara, di poter accedere a un alloggio popolare. Io devo dire, sono solo, siamo soli come forza politica, continuiamo a combattere, a rischiare anche la vita, perché stiamo rischiando la vita, ci sono state minacce non troppo velate anche nei miei confronti, non è giusto questo. L'amministrazione regionale di centrodestra che propaganda la sicurezza e la legalità non l'abbiamo mai vista. Dove sono? Devono venire qui al Ferro di Cavallo, a Borgo Marino Sud, a Fontanelle, a San Donato, la Lega Abruzzo, dove? Dei chiacchiere sono bravi a farli, ma poi i fatti, i fatti li vogliamo vedere concretamente con lo stanziamento di fondi immediati e lo sgombero immediato degli abusivi. Altrimenti sono in continuità con gli altri, non è cambiato nulla. Degrado e violenza continuano ad essere pane quotidiano per i residenti di queste case, costretti a fare i conti con la prepotenza e la mancanza di rispetto di certi condomini, spacciatori che mettono a disposizione dei loro clienti le stanze degli appartamenti abusivamente occupati per drogarsi. Pronto anche un dossier da inviare al Ministero degli Interni? Pronto un dossier con tutte queste criticità perché noi chiediamo anche naturalmente maggior presenza da parte delle forze dell'ordine, non solo, da inviare agli organi governativi.